Se volete avere tutti i veicoli del DLC Shop Shop gratis insieme a aggiunta di denaro presso MK2 nel vostro account personale di GT Online oppure account montati con miliardi di corsa montata completi montati per tutte le piattaforme al prezzo più basso d'Italia in assoluto potete contattarmi in uno dei contatti in descrizione come Telegram oppure Instagram Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati qui nel mio canale io sono Krix oggi ragazzi sono qui finalmente signori mi è ritornato con un nuovo video su GTA 5 Online oggi ragazzi sono qui in cui non vi mostrerò glitch o farò una guida ma come avete detto dal titolo volevo semplicemente informarvi che questa settimana Rockstar Games ha nuovamente rilasciato il colpo dello sfasciacarrozze dedicato al furto ai gangster questa rapina vi permette anche di ottenere il completo da poliziotto che si può purtroppo dico purtroppo ottenere solo tramite un glitch al tempo stesso ragazzi questa rapina vi permette anche sostanzialmente di sbloccare i veicoli della polizia che potete trovare sul sito di Warstock Gash & Carry come primi veicoli all'interno del sito come state vedendo in questo momento del video e quindi ragazzi oggi volevo comunicarvi praticamente che Rockstar Games ha nuovamente rilasciato questa rapina che appunto i giocatori di GTA Online potranno giocare fino alla mattina di giovedì 15 febbraio 2024 ora non so dato che in questo momento in GTA Online ci sono anche diciamo i contenuti del DLC di San Valentino essendo appunto il 14 la giornata di San Valentino se Rockstar diciamo che terrà l'aggiornamento settimanale esteso per due settimane oppure appunto giovedì 15 Rockstar andrà nuovamente a cambiare i contenuti quello che voglio dirvi se sto facendo questo video è che Rockstar Games questa settimana ha rilasciato nuovamente il colpo del furto ai gangster e quindi ragazzi questo vuol dire praticamente che questa settimana usando questo colpo potrete avere la possibilità di ottenere il completo da poliziotto di cui ci ho già realizzato un video sul canale ma anche di poter sfruttare questo colpo per sbloccare diciamo la possibilità di acquistare le auto della polizia che trovate all'interno del sito di Warstock Gash & Carry quando questa rapina viene appunto rilasciata c'è disponibile diciamo questo glitch per ottenere il completo da poliziotto ma al tempo stesso anche di sbloccare i veicoli della polizia per sbloccare diciamo la possibilità di acquistare anche solamente al prezzo scontato queste tre auto ovvero la Stranier LE Cruiser, l'auto civetta e il furgone antisommossa per avere diciamo accesso tra virgolette a questi veicoli ragazzi l'unico modo è quello appunto di giocare questo colpo ovviamente ragazzi non starò qui a spiegarvi come ottenere il completo da poliziotto e a farvi la guida su come sbloccare le auto della polizia quindi volevo semplicemente comunicarvi questa cosa e vi lascerò tutte e ripeto tutte le guide del caso che appunto vi servono per appunto ottenere sia il completo da poliziotto ma anche di sbloccare la possibilità di acquistare le auto della polizia qua sotto nella descrizione questa settimana giusto per chiarezza ragazzi il colpo del furto ai gangster sarebbe questo qui della Champion come potete vedere sarebbe il primo sulla sinistra quando accedete al computer dello sfasciacarrozze questo è il colpo del furto ai gangster e quindi grazie a questo colpo in cui se lo fate andrete a rubare la Champion sarebbe il colpo che vi permette appunto di sbloccare questo perché nella rapina finale una volta che appunto avrete completato tutte le missioni di preparazione e anche aver fatto i preparativi e i vari incarichi al colpo finale di questa rapina ragazzi avrete il completo da poliziotto ovviamente essendo il completo diciamo un completo bannato da gt online quindi che non si può avere normalmente all'interno del gioco quando appunto vi troverete nella rapina finale il gioco vi darà questo completo e esiste appunto un glitch per salvare il completo e vi lascerò il video qua sotto nella descrizione invece giocando diciamo il colpo normalmente quindi facendo le varie missioni fino ad arrivare al colpo finale andrete a sbloccare la possibilità diciamo in gran parte di poter comprare tutte e tre i veicoli della polizia presenti sul sito di warstock case and carry quindi ragazzi mi raccomando approfittate adesso se ancora non diciamo avete sbloccato questa possibilità di acquistare le auto della polizia e al tempo stesso volete ottenere il completo da poliziotto perché questo colpo ovvero il colpo ai gangster che questa settimana è nuovamente disponibile non durerà per sé la mattina di giovedì 15 febbraio 2024 rockstar andrà a togliere questa rapina e al suo posto ovviamente ragazzi usciranno altre rapine poi è capace anche che settimana prossima rockstar cambierà il veicolo da rapinare all'interno del furto ma il colpo sarà sempre quello ai gangster purtroppo ragazzi questo non lo so fatto sta che appunto volevo fare questo video per informarvi di questa cosa ovvero che adesso in gt online è nuovamente disponibile il colpo del furto ai gangster all'interno dello sfascia carrozze ed è un colpo che vi consente non solo di ottenere il completo da poliziotto sarebbe quello non classico ok quello imbottito stile SWAT ecco quel completo lì da poliziotto che si può ottenere tramite un glitch che è veramente ragazzi super semplice e veloce da fare link qua sotto in descrizione ma anche appunto di sbloccare la possibilità come già detto di acquistare le auto della polizia potete fare sia l'uno o l'altro metodo per sbloccare il prezzo scontato oppure il prezzo pubblico non ha importanza fatto sta che diciamo per sbloccare per la maggior parte i prezzi dei veicoli della polizia vi dovete giocare questo colpo vi ho spiegato nella guida che trovate qua sotto in descrizione riguardo appunto la guida per sbloccare le auto della polizia come poter insomma accedere a queste auto e sempre qua sotto in descrizione vi ripeto troverete la guida che ho realizzato riguardo questo colpo su come avere il completo da poliziotto ed è ragazzi un glitch veramente super semplice e veloce da fare quindi se ancora dovete comprare le auto della polizia e appunto dovete sbloccare la possibilità di acquistarle questa settimana ragazzi è la vostra settimana per appunto sbloccare queste auto della polizia e al tempo stesso se non avete il completo da poliziotto lo potrete ottenere tramite questa rapina tramite appunto il glitch che vi lascerò qua sotto in descrizione che è veramente super semplice e veloce da fare detto questo ragazzi nulla questo video quindi si conclude qua io spero abbiate apprezzato se così mi raccomando pollicione in sub bomba commentate condividete iscrivetevi al canale per altri contenuti se non l'avete ancora fatto detto questo ragazzi io vi saluto vi ringrazio vi ricordo come al solito del mio shop per account moddati oppure aggiunta di denaro presso le mk2 con consegne in giornato oppure appunto account moddati con consegne immediata prezzi veramente ragazzi super stracciati il mio shop è il migliore in tutta italia per il rapporto qualità quantità prezzo quindi mi raccomando se vi serve un aggiunto denaro a pagamento ovviamente per il vostro account di gt online indipendentemente dalla piattaforma link del mio shop appunto qua sotto nella descrizione io vi saluto vi ringrazio qua da grix è tutto e noi come al solito ci si becca con un prossimo video prossima live un prossimo glitch bella vado bella vado